Teledurruti, Fulvio Abate. Cosa mi manca, anzi, cosa mi è mancato per diventare ricco e famoso come... Come si chiama quello lì che ha fatto il dito, la scultura col dito a Milano? Eh? Non lo sappiamo! Cattelan, ecco! Cosa mi è mancato? Sono pieno di fantasia per diventare ricco, glamour che mi è mancato. Lo stivaletto, Fulvio Abate. Teledurruti.